Sabato un convegno sulla famiglia d'Agrigento, come è nata l'iniziativa? Lei mi ha fatto una domanda che mi spiazza, perché l'iniziativa non è partita da Agrigento, ma è partita addirittura dall'Università di Lublino, in Polonia. Due docenti che insegnano lì hanno chiesto di organizzare un convegno sulla famiglia. Si vede che abbiamo gli stessi problemi e le stesse ansietà sulla famiglia sia a nord che a sud. E infatti questo convegno abbraccia un po' tutta l'Europa e vuole esaminare, prendere a tema, la famiglia, il rapporto ai mutamenti, ai cambiamenti che oggi la società comporta. Ecco, questo mutamento, questo cambiamento va sotto il nome di modernità. La famiglia si trova oggi a sostenere diverse incognite e nella vita familiare e nella stessa vita della Chiesa. Cosa prevede il programma? Il programma prevede una mattina e un pomeriggio di lavori, si tratta di un convegno di studi, quindi ci saranno dei relatori. La mattina sarà presente il relatore che aprirà il convegno, dando e offrendo anche quindi delle chiavi ermeneutiche di quella che è la modernità oggi. Poi ci saranno degli interventi che riguarderanno la famiglia nella Bibbia e la famiglia nella tradizione della Chiesa, nella prima Chiesa soprattutto, nella storia della Chiesa. Alla fine della mattinata ci saranno anche dei contributi, ognuno parteciperà con liberi interventi e poi si chiuderà alle 12 e mezzo l'una. Di pomeriggio ancora una volta altri interventi e alla fine della giornata ci sarà un concerto del Coro Santa Cecilia. Grazie 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 Grazie